Ecco la partenza, questa è l'organizzatrice, bisogna mettere una prima viola, c'è qualche problema, è colpa sua, questi sono i partecipanti, l'autista, come sta l'autista? Dormito bene? Ecco il gruppo di disgraziati, sei autocarcato di neuro, siete pronti? E ora cantiamo! Ecco la partenza, ripresa dei ciclisti temerari, che si butteranno giù per Capodarno, i cavallai sono già pronti, sono già in posizione, Mario come ti sembra la partenza? Buono, buono! Sei preoccupato? No! No? Ecco i cavalli, sto riprendendo, sto riprendendo, ecco le cineprese, ecco la partenza della carovana, senti bene? Allora come ti sembra questa salita? Ecco i ciclisti, telecamera 1 sta risalendo il gruppo, sta recuperando, vedo il posteriore del sindaco, sta in là a cavallino, spero sia mansueto questo, vedete Fabio in testa, seguo la ruota di Julio e prende la scia, la scia del cavallo dura un po', sorridete che siete, ci scherzi a pace, Renzo sorridi sei in primo piano, ho già inquadrato, ho già inquadrato, ho già inquadrato, questa è la taglia, in una nuvola di mosca, ecco i ciclisti sono già passati in testa, vedete in parata, in parata, ecco in proposition di Julio, io pensavo tirassi i podisti voi, invece i podisti non li tirate, pensavo tirassi i podisti, eccoci ai casermone, con la luna, guardate che romanticismo, eccoci ai casermone, con la luna, da giusto, ora si possono mannare anche avanti, vai salvatore, vai salvatore, grande mario sei sceso mario ecco fabbri che comincia a scalare inesorabilmente verso le retrovie e lorenzo comunque la montagna è qui quindi è già cascato punti si rizza e nella parla con daniela a agis e ecco l'arri